Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggi e mi trovo a bordo di Costa Smeralda. Adesso sono al Ponte 6, nell'area My Moments. È un'area dove si possono visionare le nostre foto fatte durante la nostra fosciera. Venite con me. Per vederla è molto semplice, grazie alla nostra quiz card. Basta passarla sul lettore e questo farà vedere le nostre foto. Per acquistarla è molto semplice, basta cliccarci. L'opzione di acquisto è scegliere la misura e aggiungerla al carrello. Come avete visto è facilissimo. Ciao!